Per la giornata di oggi, lunedì 22 febbraio, ho disposto la sospensione delle attività didattiche per la scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo Agropoli San Marco di Via Verga, in quanto l'ASL mi ha comunicato la positività al covid del genitore di un alunno frequentante l'istituto. Lo fa sapere il sindaco della città di Agropoli in una nota stampa, Adamo Coppola. Si tratta, come nel caso della docente dei giorni scorsi, di un atto di eccessiva cautela da parte mia in quanto ad essere contagiato è il genitore, non l'alunno frequentante. E secondo il protocollo non sarebbe stata necessaria la chiusura, sottolinea così il primo cittadino, ma ho ritenuto di procedere in tal senso per motivi precauzionali e ho già dato in carico di procedere con la sanificazione dei locali. Oltre al caso positivo ci sono due guariti, i positivi attuali sono quindi 40, mentre i guariti dall'inizio della seconda fase della pandemia salgono a 184. Istituti scolastici chiusi anche a rutino. Alcuni bambini della scuola sono venuti in contatto con una cittadina non residente nel nostro comune, che è risultata positiva al covid, fa sapere il sindaco Giuseppe Rotolo. Per questo motivo, oggi 22 febbraio, le scuole rimarranno chiuse al fine di consentire le necessarie attività di sanificazione. Allo stesso tempo abbiamo già disposto affinché i bambini venuti in contatto con la persona positiva siano sottoposti a tampone nella mattinata di oggi. Scuole chiuse anche a Prignano, Cilento e Torchiara. La decisione arriva dai primi cittadini Cantalupo e Farro. Ho ricevuto notizia che alcuni bambini della nostra scuola sono venuti in contatto con un presutto positivo in attesa di esito di tampone. Per questo motivo, oggi 22 febbraio, le scuole materne, elementari e medie rimarranno chiuse per consentire l'attività di sanificazione. Il tutto a soli fini precauzionali. Stesso procedimento per il comune di Torchiara. Si avvisa la cittadinanza che nella giornata di oggi, 22 febbraio 2021, i plessi scolastici relativi alle classi della scuola primaria e scuola secondaria di primo grado resteranno chiusi al fine di poter consentire, a ditta specializzata, la sanificazione straordinaria dei relativi spazi interni ed esterni degli stessi, come da ordinanza numero 7 del 21-2-2021, pubblicata sull'albo pretorio del comune. La misura si è resa necessaria, solo ed esclusivamente a fine precauzionale.